ospedale compreso nella città bombardata ospedale compreso scoppiò un'epidemia di colera spero di non rivedere mai più una cosa simile non avevamo niente niente nemmeno la soluzione fisiologica salina quasi nessuna medicina e nessuna attrezzatura spazzata via dalle bombe eppure un bambino guarì dal colera però una settimana dopo morì all'improvviso durante la notte il cuore credo come causa di morte scrissi colera ma dal colera lo avevo guarito perché commento perché il medico cura ed ottiene guarigioni secondo le regole dettate dalla sua mente ricopre il suo lavoro di parole che sono limitative perché appartengono alla ragione le cause dei trapassi appartengono invece alle regole dell'individualità a cui appartiene l'individuo che trapassa attraverso il spettatore Grazie a tutti.